Enterolife è una linea di probiotici a base di spore di bacillus clausi, un microorganismo che è in grado di passare in denne la barriera gastrica e colonizzare rapidamente la parete intestinale, dotato di molteplici studi clinici a supporto sia della sua efficacia che della sua sicurezza di impiego. Il prodotto si presenta in fiale, in odore, in colore, in sapore ed è l'equivalente del leader di mercato, adatto per adulti, bambini e animali presente nelle formulazioni sia da 2 che da 4 miliardi.